La battaglia finale di Meiro Academia ragazzi si sta avvicinando, Deku in questo momento si sta infatti dirigendo presso il campo di battaglia della UA, dove ad attenderlo c'è proprio lui, Shigaraki Tomura. Prima dunque di assistere a questo scontro che sarà epocale, andiamo però in questo video ad analizzare per bene il personaggio di Izuku Midoriya, quali sono tutti i poteri e quali sono soprattutto tutti i quirk che Deku può utilizzare al momento per fronteggiare Shigaraki, scopriamolo come sempre insieme. Innanzitutto, forse anche inutile ricordarlo, Deku nasce ragazzi senza quirk, il One for All, che è il potere che adesso Deku può utilizzare, gli è stato infatti donato proprio da All Might nei primissimi episodi o capitoli della serie. Ma in cosa consiste dunque questo quirk e quali sono le sue origini? Il One for All sembra nascere parallelamente all'All for One alla fine, è stato infatti raga proprio Afo a donare al fratello minore, privo di unicità, Yoichi, tale potere, in modo che insieme potessero, secondo una visione totalmente distorta di Afo, comunque, creare un mondo simile a quello che leggevano nei fumetti americani dei supereroi. Di fatto dunque il One for All è un quirk di accumulazione, trapassabile di generazione in generazione. Durante la storia dunque il One for All è così passato per le mani di ben otto straordinari eroi, e la maggior parte di questi raga è morta poi combattendo proprio All for One. Il più grande potere di tale quirk in generale consiste poi nella possibilità dunque di accumulare potenza ed energia di generazione in generazione, oltre al fatto di poter essere tramandato o donato solo se si possiede una grandissima forza di volontà e di giustizia. Questo enorme potere accumulato ha poi inglobato e tenuto in sé i quirk originali degli Eros, dei precedenti possessori raga, e ad oggi conta dunque ben 6 quirk che Deku potrà andare ad utilizzare nella battaglia finale contro Shigeraki. Prima però di andare a vedere quali sono questi 6 quirk che Deku potrà utilizzare in battaglia, bisogna andare a fare due importanti precisazioni. La prima riguarda la più grande debolezza del One for All, mentre la seconda riguarda il mondo delle vestigia. Il One for All, a causa dell'enorme energia accumulata raga, è estremamente pericoloso infatti per chi lo usa. Abbiamo già visto gli effetti del suo utilizzo sugli arti di Deku praticamente in tutto il manga, finora dove si spacca qualunque cosa, ma siamo oggi arrivati, vi farei notare, ad un livello tale di potenza che durante la battaglia finale Izuku Midoriya potrebbe seriamente mettere in pericolo la sua stessa vita pur di andare ad utilizzare, diciamo, determinati percentuali di potenza. E a questo proposito vi farò poi notare, quindi prestate attenzione, come tale punto debole sia stato poi fatale per il quarto possessore. Ecco, diciamo che magari sotto questo punto di vista almeno Deku è stato fortunato. Deku infatti raga è stato fortunatissimo, in quanto essendo poi nato senza Quirk non possedeva poteri che avrebbero bustato ancora di più la potenza dell'Ofa, ma ne parleremo più tardi. Un'altra cosa importantissima, come dicevo prima, è poi la presenza del mondo delle vestigia. Deku può accedere a tale mondo, un mondo interiore molto simile, se non uguale, io ve la butto lì, a quello dell'All for One. Cioè, insomma, i due mondi, secondo voi, sono collegati. Cioè, la battaglia finale si potrebbe spostare infine in questa dimensione. È una bella teoria, ragazzi, vediamo. Infatti anche, vi faccio notare, questa porta misteriosa all'interno della sala dell'Ofa. Non lo so, voi cosa ne pensate? In ogni caso, All for One e One for All sembrano entrambi essere collegati come potere da tale dimensione spirituale, interna, psicologica? Avete capito? Detto ciò, vediamo adesso quali sono i sei poteri, i sei quirk, che Deku sicuramente andrà ad utilizzare contro Shigaraki, tenendo però conto che, in generale, come sappiamo, Deku fa parte della nona generazione del One for All. Prima ci sono stati otto, per appunto, possessori, ma due dei quali, raga, erano senza quirk. Quindi capite che, in totale, i poteri sono sei. Yoichi e All Might non avevano potere. Andiamo dunque in ordine di possessore. Il quirk del secondo possessore si dica sia forse il più potente. Un quirk dalla potenza inaudita, da usare solo in caso di estrema difficoltà. Peccato solo che tale quirk sia a noi ancora ignoto. Quindi, chissà, magari questo video avrà un update. L'unica cosa che sappiamo è che il secondo possessore assomiglia veramente tanto a Bakugo, non che voglia dire qualcosa, e che ha dei gantlet, dei guanti, per appunto, vicino alle mani, beh, dove si mettono i guanti, però sono molto interessanti, perché anche qui ricordano vagamente Bakugo. Andando avanti, troviamo poi il fagin del terzo possessore, che consente di fatto di assorbire l'energia cinetica che si sprigiona attraverso i movimenti, per l'appunto, per poi rilasciarla aumentando velocità e potenza dei colpi. Questo importantissimo potere permette così di boostare la percentuale di utilizzo del One for All, raggiungendo ad esempio un pseudo 100%. Grazie a questo potere, Deku può raggiungere percentuali di utilizzo molto, molto elevate, senza però portare allo stremo il suo corpo. Successivamente troviamo il Danger Sense, una sorta di spider prurito. Appartenuto ai Kageshi no Mori, il Quirk permette di percepire pericoli imminenti, qualora, però, attenzione, l'avversario abbia veramente cattive intenzioni. Un esempio qui è il rapimento di Deku da parte di Toga. Deku vi ricorderete che non si è accorto che Toga stava, appunto, per rapirlo, in quanto Toga, la villain, non aveva veramente cattive intenzioni nei confronti del ragazzo. Il quarto user, tra l'altro, come vi dicevo prima, è morto prematuramente a causa proprio della troppa potenza esercitata dal One for All. E questo è importantissimo, in quanto il One for All adesso praticamente potrebbe essere passato solo a individui senza Quirk. Perché se venisse passato a qualcuno che possiede già un Quirk, la potenza sarebbe così elevata che quell'individuo non potrebbe sopravvivere. Ed è per questo che vi dicevo prima che Deku è stato fortunatissimo. Il Quirk del quinto possessore è invece il Black Whip, visto in azione sia nella quinta stagione sia nel terzo film, My Hero Academia World Heroes Mission. Il potere, appartenuto ad Aigoro Banjo, permette di fatto, raga, di creare fruste di energia nera utilizzabili come fa Spider-Man per spostarsi, ma anche per avvolgere nemici e aumentare, in generale, l'agilità dei movimenti. Il Quirk del sesto possessore En è invece lo Smokescreen che permette di generare fumo dal corpo per nascondersi o per sferare attacchi a sorpresa. Infine abbiamo il Quirk di Nana Shimura, nonna di Shigaraki, che consiste nel flut, praticamente, potere che permette dunque a Deku di fluttuare in aria. Combinando quindi tali Quirk, Deku riuscirà a tenere testa a Shigaraki e a All4One. Voi cosa ne pensate? Per me è difficile, devo ammetterlo, però c'è anche da considerare che Deku non sarà solo sul campo di battaglia. Insieme a Biduria, infatti, ci sarà non solo Bakugo, dunque, ragazzi, prepariamoci ad una battaglia Deku-Bakugo contro Shigaraki che sarà folle. Ma c'è anche Mirko, c'è il professore Aizawa fuori dalla struttura della UAE, ci sono i pro-hero all'interno, c'è anche Tamaki, c'è Neji Reado, insomma, ci sono tanti eroi che potrebbero dar manforte in ogni caso a Deku, perché secondo me Deku da solo Shigaraki non lo sconfigge. C'è troppa differenza di potere. Questo, parere mio personale, sbaglierò? Senza considerare poi per l'appunto la presenza del mondo delle vestigia, cioè la battaglia, come poi è accaduto in parte all'interno della saga della guerra, si potrebbe spostare all'interno di quella dimensione e di quel mondo. Voi cosa ne pensate? Mi raccomando, iscrivetevi qualora non voleste perdervi altri video su My Hero, lasciate un like e commentate soprattutto con le vostre opinioni e con le vostre teorie. Vi aspetto qui sotto e noi ci vediamo domani. Alla prossima! Alla prossima!